Sabato scorso abbiamo presentato primo al gruppo dei ragazzi della prima squadra, chiaramente i giovani del posto che faranno tutti parte, quindi dalla Juniors fino a quelli che già erano in squadra quest'anno e un paio di ragazzi che avevano deciso che probabilmente per motivi di studio avrebbero lasciato, dopo l'incontro fatto e dopo le parole spese da Primo Petronilli, hanno fatto l'incontro proprio con Primo e con Marcello Smacchia e hanno raggiunto subito l'accordo per iniziare gli allenamenti a fine luglio. Quindi voglio dire hanno cambiato idea nel giro di un'ora, tanto era stata la chiacchierata che avevamo fatto con i giovani. Oggi abbiamo bisogno di questo, abbiamo bisogno di fare ancora di più, far vedere la civiltà di vecchiesità e far attaccare a questa maglia nera azzurra i giovani che già ci sono e che già lo sono, però devono fare questo passaggio perché non sono più nel settore giovanile, sono all'interno di una prima squadra dove ci sono persone anche più grandi, pari di famiglia, per cui al termine di una partita il risultato pesa sotto moltissimi aspetti. Siamo contenti di questo, Primo era sempre stato vicino alla Civita Vecchia Calcio, non aveva il ruolo che gli abbiamo dato e quindi abbiamo aspettato il momento che ci fosse un ruolo importante, un ruolo adatto a lui, praticamente sarà colui che parlerà di calcio per il Civita Vecchia, a voi giornalisti e alla città. Grazie.